Dario Fabri, grazie mille di essere qui, di aver accettato il mio invito a voler dialogare con me. Grazie a te, grazie a chi ci ascolta. Allora io partirei, se stai d'accordo, facendo prima di tutto una visione generale di che cosa è la geopolitica, perché come sappiamo è una delle branche del sapere che più spesso viene un po' emarginato, comunque anche gli uomini di cultura poi alla fine non ne sanno niente. Quindi io so che invece sei molto bravo anche a inquadrare quali sono gli aspetti principali del tuo lavoro, quindi io ti chiederei proprio cosa fai, qual è l'obiettivo dell'analista geopolitico? L'obiettivo dell'analista geopolitico è una domanda molto complessa, dovrebbe però leggere o intelleggere quelle che sono le interazioni fra comunità, fra collettività, che siano popoli, nazioni, imperi, sulla terra, cioè in uno spazio geografico, essenzialmente dovrebbe occuparsi soltanto di questo, ma ciò di cui poi si occupa una disciplina è certamente una sorta di interesse programmatico, ma come lo fa, come si persegue questo tipo di di conoscenza, di approccio è molto diverso. Innanzitutto a me non piace moltissimo il termine geopolitica, ma ce lo portiamo dietro, è una quasi bruttina a mio avviso, però rende tendenzialmente l'idea, anche se è una disciplina estremamente vaga, già in questa definizione così molto essenziale che ho fornito ci si ritrova una sorta di carattere embrionale, perché poi come si studia l'interazione fra comunità è qualcosa di molto ampio, può essere qualsiasi tipo di approccio, dentro la definizione di questo tipo può rientrare addirittura la sociologia, può rientrare la psicologia collettiva, può rientrare, non lo so, anche una sorta di approccio mediamente legato alla scienza politica, ecco la scienza politica è uno dei grandi fraintendimenti, perché a geopolitica non c'entra nulla, anzi rifugio alla scienza politica ed è cordialmente disprezzata, anche non cordialmente dalla scienza politica, la scienza politica è totalmente inutile, a mio avviso lo è, se non per divertimento, può essere divertente, insomma scambia l'illusione per la realtà e la scienza politica pensa tutto il male possibile per la geopolitica essenzialmente, quindi si ritrovano in questa mancanza di apprezzamento, resta che la geopolitica dovrebbe, più mettiamo un condizionale perché poi ho un mio approccio alla geopolitica, insenzialmente come ci sono molte filosofie di cui tu Davide sei un conoscitore, così esistono molti approcci alla geopolitica, qualcuno è geopolitico per niente, ma è sedicente, altri lo sono un po' di più ma possono essere distanti gli uni dagli altri, per quanto mi riguarda l'elemento di aggregato, cioè l'aggregazione umana, del fattore umano sono al centro della mia speculazione, dove non esistono gli individui ma esistono le aggregazioni umane che possono essere appunto collettività e comunità e a salire e poi esiste inevitabilmente uno studio delle percezioni, perché se una caratteristica deve avere la geopolitica è quella di calarsi nei panni dell'oggetto studiato, possibilmente senza un approccio dicotomico, i buoni e cattivi non dovrebbero mai esistere se puntiamo e inquadriamo gli esseri umani per ciò che sono, cioè miserabili e altissimi allo stesso tempo, difficile che siano soltanto gli uni e soltanto gli altri. Possono esserli in fasi diverse della vita ma non in assoluto, quindi ci è richiesto, a me ne è richiesto a chi ha un approccio di questo tipo alla geopolitica anche di sporcarsi delle vicende altrui, invece spesso nelle altre discipline si resta sempre o molto distanti dall'oggetto di cui si ha orrore oppure ci si innamora al contrario per tutta mente si tifa, ecco, tutte queste sciocchezze, almeno per quanto riguardano i limiti del possibile tenderei a non frequentarle. Però ecco, in grande conclusione, geopolitica è una disciplina che studia le interazioni fra comunità in uno spazio territoriale, geografico. Poi sul come si apre un mondo. Ok, certamente l'approccio quindi geopolitico è un approccio che guarda gli aspetti anche concreti della realtà, però vedi anche oggi qualche rapporto, diciamo, di forza legato a qualche idea, cioè una visione del mondo che spicca più delle altre oppure non c'è questa cosa? Beh, sicuramente c'è una visione del mondo che spicca più delle altre, dovrebbe essere quella visione del mondo a cui facevo accenno prima, cioè una visione del mondo che riconosca anzitutto una lunghissima temporalità le vicende di cui ci si occupa. cioè il dramma delle discipline umanistiche o il dramma degli esseri umani inevitabilmente che credono di vivere momenti sempre inetiti, assoluti, sono molto lanciati nel loro momento e perdono il punto di vista lungo. Cioè spesso di ciò di cui ci occupiamo oggi resteranno soltanto dei rudimenti o soltanto delle rovine e è necessario inquadrare tutto ciò a cui assistiamo nel lungo periodo. Quindi la geopolitica necessita inevitabilmente di una matrice storica che poi rimonti all'oggi per immaginare il futuro, sebbene la storiografia classica è una storiografia liderista, quindi è utile nel suo impianto nozionistico molto meno l'interpretazione, gli storici faticano nell'interpretazione, sono convinti che i leader facciano la storia tranne i casi isolati oppure c'era un filone dopo la seconda guerra mondiale di storiografia socialista che si aveva posto al centro le masse della speculazione ma le considerava sempre traviate, trattate male dalle classi dirigenti e demenzialità di questo tipo. Le masse non sono mai trattate male da nessuno, fanno sempre tutto ciò che vogliono, lo fanno come puro sentimento e i leader sono utili, finché sono utili poi semplicemente o li uccidono o ne fanno volettere a meno. Però certo il leader ha una componente romantica, quindi viene utilizzato, viene narrato, è un ridottore di complessità, è molto pigro per occuparsi di leader e quindi utile. L'identemente tu dovresti scavare tutte le volte nelle strutture di una comunità, dovresti indagarne la cultura, l'approccio storico, dovresti indagarne quella che è la lingua e poi il passato, gli eventi, la psicologia, ti occupi di un leader, studi che cosa vuole, che cosa pensa del mondo e si è convinto di aver capito tutto. Poi i conti non tornano mai, ma se non tornano è colpa del leader che non è stato capace di essere se stesso o delle masse che non l'hanno interpretato per il meglio. Di queste cose dovremmo fare a meno, certo questo almeno con il mio approccio non c'entrano molto e guarda, stabilire cosa non si è è già molto, perché poi stabilire cosa si è è molto più difficile. Anche perché oggi capire che cosa ha in mente Biden per esempio è molto complesso immagino dopo anche l'ultima trovata, diciamo così. Io infatti scendendo un po' più nell'attualità ti chiederei proprio di questa crisi ucraina che so che comunque in qualche modo è un tema che stai affrontando per forza, per necessità, molto con attenzione. Quindi appunto ti chiedo qual è il movente di tutta questa, di tutto questo allarme? L'allarme è comunque giustificato, nel senso stiamo discutendo di una crisi che è tra le più importanti che vi siano. Anzitutto perché riguarda il continente europeo, il continente più importante del mondo. Secondo luogo perché riguarda il rapporto tra la prima e la terza potenza del pianeta, quindi non sono esattamente due soggetti minori. E poi perché riguarda anche la seconda potenza, cioè la Cina, inevitabilmente si inserisce nel contesto perché il grande negoziato a cui stiamo assistendo, che non è detto che rimanga tale, potrebbe anche scarrellare in guerra, ma l'obiettivo è tenerlo nel negoziato, prevede da un lato occuparsi di quale ruolo dovrà avere la Russia nel continente europeo, di quale estero vicino potrà o meno beneficiare, fin dove potrebbe arrivare il contenimento dei suoi danni da parte americana, ma dall'altro lato si discute anche di quali rapporti deve avere la Russia con la Cina. Perché il tentativo di trovare una tregua nell'estero vicino russo passa anche dalla proposta putiniana di dire agli americani dateci tregua, lasciateci impostare in Ucraina o in Bielorussia perché noi vi siamo utili in funzione anticinese, perché altrimenti ci appiattiamo sulla Cina e a voi non conviene certo affrontare due nemici insieme, invece vi conviene dividere il fronte, il campo ostile. Quindi c'è molta attenzione per qualcosa che è molto importante, il problema è che è complicato da leggerla, si scambiano una cosa per un'altra, mediamente chi si occupa di vicende come questo è un giornalista, che non ha uno strumentario geopolitico e che deve vendere copie. Un po' lo fa per ingenuità, scambia le manovre che dovrebbero corroborare un negoziato per la guerra, poi non capisce i messaggi incrociati che si passano all'intelligence, quindi anche lì non pensassi in una cosa e ci sono un'altra. Oppure dall'altro lato c'è chi capisce molto bene e ai noi si pone al servizio di questo, quel soggetto tifa e anche lì scambia una cosa per un'altra, però lo fa condolo anziché per ingenuità. Tutto questo complica uno scenario che è già molto difficile da affrontare e che spesso nella sua natura nazionistica di cronaca è affidato anche legittimamente a persone che non si occupano di gioco politica, quindi ti riportano una fotografia degli eventi che è estremamente frammentaria e spesso poco utile a comprendere sul serio cosa succede. Per esempio quando si legge che Putin ha tutto da perdere in questo scontro è secondo te vero? Putin ha molto da perdere, tutto non so dirti, nel senso la Russia è in enorme difficoltà nel suo estero vicino, la Russia si sta giocando il controllo sull'Ucraina che è il cortile del cortile di casa, quando una potenza si gioca al cortile di casa è quasi disperata e la Russia è un paese quasi disperato che ha comunque una struttura che poi gli consente di essere anche altro, certo Putin è un soggetto in difficoltà ma nel caso specifico la Russia può ottenere e cerca di ottenere qualcosa dagli americani per quello che ci dicevamo prima, perché gli americani non devono distrarsi sull'Europa che già controllano ampiamente quando il loro nemico è nell'Asia Pacifico, questo dovrebbe condurre, per quanto riguarda Mosca, ad ottenere almeno una sorta di temporanea tregua dall'asfissiamento nell'estero vicino, ma era più concreta, ad un'Ucraina che non entrerà né oggi né tra dieci anni nella Nato, ma di questo stanno discutendo. A proposito della Nato proprio, visto che tu sei comunque anche un esperto di Stati Uniti, la Nato oggi che ruolo ha? Ancora ha senso parlare di Nato, anche per noi europei dico, stare dentro la Nato è una domanda che uno si può fare oppure secondo te vieni scambiato per anti-atlantista o chissà che cosa? Io credo poco agli atlantisti e agli anti-atlantisti, perché significa poi avessi scelto un egemone, se la domanda è meglio gli Stati Uniti che la Cina come egemone è ovvio, molto meglio gli Stati Uniti, ma sempre di egemone parliamo, se uno può mai innamorarsi di un egemone che tanto non ti corrisponde l'amore, passi soltanto più o meno da illuso ma l'Italia ne è strapiena a figurarsi, non sceglierei mai né la Russia né la Cina, sceglierei gli Stati Uniti ma non vuol dire che io mi debba scegliere un egemone, quindi essere atlantisti o meno non ha, almeno per quanto mi riguarda, un grande valore, resta il fatto che non è una scelta, che poi è il vero argomento, non è che uno può essere non-atlantista, cioè non è che noi siamo entrati nel campo statunitense per scelta, nessuno entra mai in un campo egemonico per scelta, poi si sta la narrazione che ti racconta ciò e senza strumentare un geopolitico per dolo o ci credi o la diffogna, questi sono problemi di chi lo fa, noi siamo detti al campo statunitense perché gli Stati Uniti ci hanno in base occupato, qui rimangono 13 mila militari americani, certamente abbiamo affinità con loro, certamente gli Stati Uniti sono un paese straordinario, certamente poteva andarci molto molto peggio, ma non vuol dire che noi siamo entrati nel loro campo perché ci vogliono bene, siamo entrati nel loro campo perché noi apparteniamo alla loro sfera di influenza perché siamo stati straordinariamente e clamorosamente sconfitti durante la seconda guerra mondiale e lì rimaniamo. Quindi la Nato oggi ha un problema che è quello di narrazione, cioè che cavolo serve la Nato è una domanda corretta, serve sempre lo stesso a cui serviva prima, cioè è una rete di clientes in senso latino di cui dispongono gli Stati Uniti che sono l'impero centrale a cui delegano una parte del fardello militare nemmeno troppo grande, anzi un po' piccina, ma che soprattutto serve la Nato a impedire che nascano eserciti dei singoli paesi europei che possano sfidare gli Stati Uniti sul continente, questo serve, a cui si aggiungeva il contenere all'epoca l'Unione Sovietica, oggi c'è un minimo di contenimento ad anni la Russia, ma non è eccezionale come i tempi della guerra fredda, quindi la Nato ha bisogno di una nuova narrazione, questo sì, perché questo che è il telaio della Nato è sempre stato uguale, la seconda guerra mondiale da quando nasce, il primissimo secondo dopoguerra fino ad oggi, si ha per lo stesso ragione per cui esiste la Nato, il problema è che prima aveva una narrazione molto più evidente, cioè siamo contro l'impero del male, che sono i sovietici, che sono dei cattivoni, sono anche dei cattivoni, ma ovviamente è una narrazione, oggi questa narrazione è molto sfibrata perché siamo contro la Russia, la Russia è un paese molto debole, quindi regge meno da questo punto di vista, il problema della Nato è trovare, più che darle un ruolo che è sempre lo stesso, non lo ha cambiato in nessuna maniera, è trovarle una narrazione e qui bisogna metterci un pizzico di intelligenza finora, non mi sembra ci siano riusciti. Quando dici narrazione intendi dire di nuovo idee, quindi visioni anche qui, oppure c'è dell'altro, cioè nel senso chiariamo meglio questo termine, narrazione. Narrazione è ciò di cui ha bisogno qualsiasi soggetto quando agisce, l'agire di un soggetto nella sua crudezza è immangiabile per i suoi abitanti e anche per gli altri. Gli Stati Uniti sono in Europa perché hanno come strategia l'impedire che una potenza possa dominare il continente, ma è chiaro che questo non può essere accettato in quanto tale, gli esseri umani non agiscono in maniera così asettica, quindi gli americani in primis e anche gli altri popoli europei che sono sottomessi agli Stati Uniti devono averne un'altra narrazione che gli Stati Uniti sono qui perché devono redimere l'umanità, perché diffondono la democrazia, difendono i diritti umani perché loro sono buoni, si sono dei cattivi perché è molto bello stare con loro, perché fanno serie televisive eccezionali, perché producono musiche eccezionali, queste sono questioni molto importanti che corrispondono alla narrazione, con il rivestimento, una sorta di glassa che si pone sulla realtà di cui tutti gli imperi, anzi devo dire tutti i soggetti hanno bisogno né più né meno, che va studiata in quanto tale, ma scambiata per la realtà che è moneta corrente, questo è un po' diverso. Ha a che fare anche con la cultura. Non vuol dire attenzione, vuol dire che gli americani non ci credano, la narrazione è qualcosa in cui credono veramente, tutti gli imperi ci credono veramente, non vuol dire che sia realtà, un essere umano ci crede, cioè non esiste nessun complotto, ci si crede proprio, ma non vuol dire che sia realtà ed è giusto crederci, tutti i grandi imperi hanno sempre creduto a se stessi, se non credessero a se stessi morirebbero. Certo, e anche la Cina in questo frangente ha... La Cina manca di una vera narrazione, è un po' la sua tragedia, non ne ha una, non è riuscita a svilupparne una, ha una narrazione utilitaristica, cioè state con noi perché vi conviene, perché noi siamo l'economia del futuro, perché possiamo garantirvi un tasso di crescita, eccetera, ma nessuna comunità agisce soltanto per l'utilitarismo, ha bisogno anche di una narrazione che sia altro, che sia anche più alta, e per ora non è riuscita dalla Cina a trovarne una veramente seducente che possa sfidare quella degli Stati Uniti. Restando sul termine narrazione, ti chiedo anche qual è la narrazione dell'Unione Europea in questo momento, visto che, come dire, abbiamo anche una carenza, a prescindere dalle visioni, ma all'interno, diciamo, anche di questo scenario pandemico abbiamo visto che ogni Stato interno si è mosso con i propri principi, con le proprie visioni. La Germania ha fatto una cosa, l'Olanda ha fatto un'altra, l'Italia ha fatto ancora un'altra, quindi forse sotto certi aspetti ha fatto anche delle cose molto dure, molto drastiche, quindi, appunto, come mai, qual è la visione comune dell'Europa? Se c'è, io so che tu sei critico, quindi... La visione comune... ma l'Europa non esiste in quanto... perché per esistere un soggetto deve essere una comunità. La comunità è puro sentimento. Esistono elite che si sentono europee nel bel tempo, poi quando arriva il brutto tempo neanche le elite si scannano fra di loro e poi credono che, partendo dall'alto, dal loro sentimento utilitaristico, di europeismo, questo possa diffondersi al basso e vengono sempre respinti con perdite. Cioè, più che la mia opinione conta l'opinione e l'ethos, più della mia opinione, nel senso, io che comunque per ragioni anche di mestiere tendo a incontrare persone diverse dalla mia cultura, eccetera, conta l'opinione di chi rappresenta molto più la cultura italiana di me, che è il cittadino, la cittadina che conosce soltanto o quasi la tradizione italiana, che la difende e ne è orgogliosa e certamente la rappresenta più di me, che ha un'ibridazione maggiore. Insomma, conta molto più quello che pensa la massaia lucana del futuro dell'Italia o l'impiegato lombardo del futuro d'Italia, di quello che penso io. Non c'è alcun dubbio, perché loro hanno una purezza nel loro ethos che io non possiedo al riguardo, perché ho inevitabilmente una visione corrotta dalla conoscenza di altre situazioni in realtà. Detto questo, una comunità si basa sul sentimento, su un'appartenenza che poi si registra in condizioni estreme, o di fronte alla morte o davanti ad una crisi molto grave. E come sempre la Costituzione europea, che non ha un sentimento, perché non è una nazione, tra l'altro le nazioni nascono attraverso la violenza e io eviterei di assistere ad una nazione nata per violenza in Europa, che potrebbe significare fare la terza guerra mondiale, questa non c'è. La narrazione che ha l'integrazione comunitaria è che grazie all'integrazione comunitaria siamo tutti più ricchi perché commerciamo liberamente, siamo tutti più pacifici perché non si fanno le guerre. Questa è la narrazione, che non è vero fino in fondo, siamo forse anche più ricchi perché commerciamo, ma non è vero che non si fanno le guerre per l'integrazione comunitaria. Non si fanno le guerre perché c'è un egemone, prima ce ne erano due, adesso ce n'è uno che impedisce, tutti gli egemone impediscono ai loro clientesi di farsi la guerra fra di loro. La Nato sta lì per quello, però non c'entra nulla con l'integrazione europea. La classica situazione che risponde al concetto di Pax, che è un concetto romano che non voleva dire pace, perpetua come lo intendiamo noi, la Pax è un'assenza di conflittualità perché c'è un perno superiore che pedisce ai sottoposti di prendersi a schiaffi fra di loro. Questo in Europa si ritraccia finché ci sono gli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti se ne andranno gli europei tonderanno a fare quello che hanno sempre fatto, cioè a scannarsi con una gradazione inferiore perché oggi gli europei sono molto più vecchi. Quindi inevitabilmente con un'unità mediana più alta una comunità ha meno l'inclinazione a farsi la guerra, ma a scannarsi sul piano finanziario, economico, del razzismo, degli stereotipi non ci faremo mancare niente quando gli americani non avranno più la forza di tenerci buoni sotto di loro. A livello invece economico, perché è una delle cose anche di cui si occupa forse un po' il geopolitico, però forse c'è anche un po' di contrasto tra le due visioni. Tante volte ho sentito dire che comunque gli economisti prendono a volte delle sbandate e quindi c'è anche da diffidare forse dal pensiero economista proprio in senso stretto. Però oggi abbiamo visto che anche a livello di crisi varie sono emerse due grandi cose. Una è quella appunto di nuovo la potenza bellica che abbiamo di nuovo visto i carri armati e tutto quanto, dall'altra però abbiamo visto anche le bollette e tutte queste cose che salgono. Quindi il prezzo diciamo è anche… C'è un collegamento senza dubbio. Ma gli economisti, come tutte le discipline fanno, c'è chi fa bene il loro lavoro, chi lo fa straordinariamente, chi lo fa meno bene. Partire da me che faccio molto male il mio e quindi ci sono geopolitici che lo fanno molto meglio di me. Non è questo il punto. Il punto, come in tutte le discipline, di questo spesso si macchia l'economia a credere di essere l'alfa, l'omega di qualsiasi ragionamento che anche la geopolitica può avere, intendiamoci, ma che l'economicismo è parte del nostro momento, che è un momento postorico. Tutti i satelliti dell'impero sono economicisti, perché comunque il perno superiore, non facendo di fare la guerra, fortunatamente aggiungo io, infatti noi viviamo un lusso straordinario che mi auguro viva per sempre, ma non può essere, finirà inevitabilmente, non potendoci occupare di strategie e fare la guerra, ci occupiamo di economia. Malino in Italia, ma comunque meglio di altri paesi. L'economia è questo, cioè è ciò di cui si occupa un satellite. Al momento in cui noi ce ne occupiamo e non ci rendiamo conto che questa è la ragione, crediamo che questo valga per le grandi potenze, che non si occupano di economia perché non sono satelliti, andiamo fuoristrada. Crediamo che Putin agisca per il gas, oppure gli statuti vadano a cercare il petrolio come loro primaria fonte di azione e non capiamo perché poi i conti non tornano e battiamo i piedi. In questo senso l'economia non serve a granché. L'economia serve con tutti i suoi difetti. 200 anni fa nessuno avrebbe mai ascoltato il parere di un economista. Oggi è il momento dell'economia, finirà ovviamente perché non è in grado di spiegare una realtà che va oltre il satellite. Quando smetteremo di esserlo o ci estingueremo, dovremo tornare ad occuparci necessariamente anche di strategia, di geopolitica eccetera, ce lo facciamo ma poco rispetto a quanto dovremmo, quindi non è il problema, l'economia è credere che l'economia sia il metro per vedere tutte le cose del mondo, quindi applicare un'immagine economicista che è tipica dei satelliti alle grandi potenze, credere che loro siano come noi, siano postorici come noi. Il nostro, ripeto, è un lusso, è una bolla in cui viviamo che finirà e torneremo nella storia che è molto più crudella e dolorosa di questa che è la medesima che vivono i grandi imperi, dalla Russia, agli Stati Uniti, alla Cina, all'Iran, alla Turchia, per non citare gli altri continenti anche più drammatici del pianeta. Concludiamo questa nostra conversazione. Io farei ancora due domande veloci. Sì, sì. Ha fatto questo quadro che appunto è un quadro onesto direi perché non si nasconde nulla. Me lo auguro. Io lo vedo così, credo che il tuo sguardo sia onesto nel senso che appunto da una parte non edulcora la realtà neanche però dall'altra parte la esalta, ecco, quindi io rispetto molto il tuo punto di vista e sono contento di averti qui. È piacere mio, è piacere mio. In questo nostro dialogo. Però appunto vorrei chiederti ancora un aspetto della realtà che secondo me è interessante da analizzare, che è il dato diciamo tecnico, perché noi abbiamo comunque in questo momento anche al governo un tecnocrate, comunque una persona che è un tecnico e anche in passato abbiamo avuto comunque nei momenti di crisi di nuovo no? Un Mario, un altro Mario. Quindi sembrerebbe che soltanto i tecnici possono governare le nazioni. Per carità. Arrivato a questo punto del discorso. Allora con la stessa sincerità che ti contraddistingue. Cioè secondo te questo può essere il futuro nostro diciamo a livello anche sociale? Cioè a sempre doverci appoggiare mai a una visione politica ma sempre a una visione tecnica. Mi auguro fortemente di no. Cioè non c'è nulla. Come mai accade questo? Come mai? No non c'è niente di 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 meno auspicabile dei tecnici in politica. Intendiamoci. Tecnici possono stare in politica a patto che diventino dei politici. Non è il problema di essere un tecnico. Mario Draghi ha sicuramente ormai un'accezione più politica che tecnica anche se gioca molto sul fatto di essere un tecnico. Mario Draghi è anzitutto un politico dei tempi della Banca Centrale Europea e si muove soprattutto da ciò. Il problema è quando un tecnico fa soltanto il tecnico e lì no proprio non ci siamo. Tecnici in politica fanno danni più della grandine perché un politico di che mestiere fa? Perché non è un tecnico non deve essere un esperto di niente. Mediamente peraltro o tempera questa sua inclinazione senza essere esperto di nulla. Il politico deve avere sensibilità. Punto. Cioè deve essere in grado di cogliere quelle che sono le istanze della comunità che vuol rappresentare senza giudicarle. Un politico che si fa censore delle istanze quando si fa paternalistico, quando adotta un approccio pedagogico nei confronti della realtà finisce per essere umiliato. Ancora peggio quando si crede artefice della realtà. Un politico che sa fare il suo mestiere scava nell'ethos, scopre le istanze profonde, le riconosce e se ne fa portatore. Deve avere questa sensibilità. Un mestiere molto complicato. Deve essere un tecnico, un esperto di disciplina. Quelli sono i tecnici che sono l'entourage di un politico. Dovrebbero esserlo. Quando poi un tecnico prende il posto in politica ed è soltanto un tecnico fa danni perché non ha nessuna sensibilità. Ci sono poi tecnici che si trasformano in politici. È un altro mestiere. Devo dire Mario Draghi è uno di questi. È un tecnico che è diventato un politico. Poi che la narrazione ancora voglia un tecnico e lui comunque la persona molto capace gioca su questo. Perché in Italia la politica ha un'accezione estremamente negativa e quindi Mario Draghi dice per carità io sono un tecnico, sono un politico, ma non è vero. Innanzitutto non è vero che la politica è una cosa negativa. Non dovrebbe essere, anzi dovrebbe essere una cosa molto nobile. Poi Mario Draghi è un politico. Punto. Voleva andare al Quirinale. Cioè esattamente un politico che ha fatto campagna elettorale nei palazzi per andare al Quirinale e non è andata nemmeno bene. Non c'è niente di male. Quindi forse non è un politico troppo acuto. È un politico giovane da questo punto di vista, ma non c'è niente di male nell'essere. Infatti a mio avviso Mario Draghi è nettamente più capace dei tecnici che l'hanno preceduto perché si è trasformato in un politico. Altri tecnici, senza citarli, proprio per amor di cordialità e cortesia, sono stato tanto dei tecnici che hanno fatto danni che ancora si ricordano. Quindi per rispondere alla tua domanda e chiudere il problema non è tanto dei tecnici in politica. I tecnici sono poi cittadini come gli altri, devono trasformarsi però impolitici. Ai noi spesso i tecnici che si approcciano alla politica lo fanno da tecnici e quindi non capendo nulla di quello che hanno intorno, che finiscono per criticarlo, per disprezzarlo o credono di doverlo cambiare. In tutti i casi finisce malissimo. Mi piace molto l'accento sulla sensibilità perché effettivamente la differenza dalla freddezza che hanno tecnici, poi qui senza fare nomi ognuno si scelga il suo tecnico freddo, però effettivamente è così. Il fatto di essere calcolanti proprio per fare magari anche bene, prendere bene la mira nella direzione che vogliono, poi però li toglie dalla realtà dell'umano che invece anche... Ma non bastano i dosaggi del tecnico per realizzarsi. Ci vuole proprio l'anima, l'anima politica che oggi è urgente. Allora chiuderei però ancora su un punto che è quello della pace. Tu hai detto, visto che siamo in tempi di guerra, vorrei concludere con... Speriamo di no, speriamo di non essere in tempi di guerra. Beh, siamo diciamo nell'aria, l'aria bellica di nuovo è tornata tra di noi e quindi in qualche modo tutti siamo sempre un po' attenti, no? Appunto anche solo come paura. Certo, certo. Poi comunque, comunque la si voglia vedere, la pandemia comunque è stata anche una forma di guerra, almeno per come è stata anche descritta e poi comunque anche vissuta forse dalle persone nella vita anche privata. Quindi comunque c'è nell'aria di nuovo sempre un clima di tensione, chiamiamolo in generale. Allora io ti chiedo, quel famoso testo di Kant che appunto si chiama La pace perpetua, secondo te è una chimera che deve rimanere così, insomma, oppure prima o poi ci si sveglierà e quindi si capirà che forse la, diciamo, l'unità o comunque la solidarietà tra le persone è forse la direzione più giusta per fare bene tutti? Punto di domanda infinito. Adesso lasciando perdere il testo di Kant che è più complesso di così, però la pace perpetua è qualcosa che non si realizzerà mai finché esisteranno gli esseri umani, perché gli esseri umani non possono recidere la loro naturale conflittualità perché hanno due caratteristiche che li condurranno sempre ad essere conflittuali, sempre, non esisterà mai nessuna pace perpetua, che sono da un lato il fatto di dover morire, a meno che l'uomo diventi veramente eterno, ma più che la pace l'uomo dovrebbe diventarlo, non è detto neanche che basti, ma anzitutto il fatto che l'uomo viva una vita breve e questo lo costringe nella sua interpretazione ad agire anche nei confronti degli altri, proprio perché non ha molto tempo a disposizione e quindi deve, deve, così funziona l'esistenza, tende ad imporsi sugli altri. L'altra ragione della conflittualità è il fatto di non conoscere esattamente tutto, anzi non conoscere quasi niente, quindi tu non sai nel momento stesso in cui vivi gli altri come si comportano quando non ci sei o come si comportano nei tuoi confronti, almeno non puoi saperlo con certezza. Quindi le collettività ad esempio tendono in forma preventiva ad imporsi sulle altre per paura di subire la medesima sorte e anche questo resterà perché non conoscere è insidore nella nostra natura, non possiamo nel momento stesso in cui agiamo conoscere a 360 gradi tutto ciò che succede e saperlo con certezza. Quindi da un lato l'essere mortali, quindi avere un tempo breve a disposizione, dall'altro la mancanza di conoscenza totale di tutto ciò che capita e capiterà, non conoscere il futuro crea conflittualità. Se aggiungiamo che ne sta anche una ragione chimica questo, perché l'uomo vive anche momenti di eccitazione così come vive momenti di furia, rende la pace perpetua impossibile perché ricordiamoci che tutto ciò che riguarda il micro, cioè l'individuo, riguarda anche le collettività. Vivono delle medesime cose, a volte noi pretendiamo dalle collettività qualcosa che un individuo non chiederemmo mai, noi chiediamo alle nazioni, agli imperi che siano sempre razionali, giuste, morali, qualcosa che possiamo anche chiedere, un uomo dovremmo? Ma sappiamo che non può essere, l'uomo non può essere, non è mai sempre razionale, non è mai sempre giusto, tantomeno è morale in tutte le sue sfaccettature. Quindi per rispondere alla tua domanda no, a pace perpetua non ci sarà mai. Ciò di cui possiamo accontentarci nell'assoluta disperazione della nostra realtà che è questa e che anche nei momenti più bui l'incedere delle collettività poi genera la civiltà, che non è la civiltà borghese, cioè nel senso le buone maniere, il buon tono, è la civiltà, è la costruzione culturale dell'esperienza umana e questa tutte le potenze ma anche tutte le collettività, quelle che non sono potenze, nel loro esistere tendono a generarla, chi più alta, chi più bassa, nelle varie fasi della storia ma ci riescono un po' tutte. Va bene, allora speriamo almeno di ridurre i danni. Speriamo. Intanto ti ringrazio e vi ringrazio. Grazie a te. È stato un piacere. Dario Fabri ti ringraziamo noi e grazie mille della tua disponibilità. Speriamo presto di riaverti fra di noi. Molto volentieri. A continuare questo discorso. Molto interessante. Molto volentieri. Alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti.